Prima! Albi! Bravo Albi! Sì, che quello? Non lo truccavo! No! Che brutto guardarla nello schermo figlio! Ehi, il tuo schema? Il tuo schema, palla alto Parla sopra 6 secondi Quello che vuoi far te Adesso devo impegnare Sto facendo male C in alto Un bel In alto Questa è buona Un bel Un bel Un bel Un bel Un bel Un bel Grazie a tutti. Grazie a tutti.